Le vostre macchine vi tengono in vita, i robot han decimato gli uomini, ma è chiaro e più l'importante è l'energia. Non vedi che cerco io gli occhi, è così difficile trovare qualcuno, siamo così distanti tra persone di me. E cosa farete quando sarà la fine, quando i vostri computer lavoreranno per uccidermi? Quando lo tagliete contare soltanto su di voi, vogliono distruggere gli ultimi pensieri a piedi liberi. Quando saremo tutti in una gabbia, esisterà ancora qualcosa, sono molto colpiti i nostri forze, i vostri io sono sopporti. Cosa farete se lo schermo scoprirà? Cosa farete se lo schermo cadrà? Quando se ne andrà in mille pezzi, a potrete contare soltanto su di voi. Grazie! Grazie!